Tutto pronto a Senigallia per la mostra a mercato regionale dell'artigianato artistico gioiello d'autore in mostra. L'appuntamento, giunto alla tredicesima edizione, si svolgerà dal 4 all'8 luglio prossimi presso i giardini della Rocca Roveriesca, nella zona dei principali edifici e palazzi storici della città, come i locali della Rocca Roveriesca, la sala Expoex e Palazzo Baviera. Grazie alla programmazione dell'amministrazione comunale, la partecipazione di tanti artigiani locali e regionali e alla pianificazione dell'Expo Marche, questa mostra sta prendendo sempre più spazi e qualifica l'offerta complessiva nella nostra città. Un valore aggiunto ulteriore grazie anche ai tanti spazi messi a disposizione dell'amministrazione comunale. Sì, adesso ormai abbiamo questo nucleo che è formato tra la Rocca e Palazzo del Duca, tutte le aree circostanti e che con una scena e una quinta molto importante che rendono ancora più importante questo tipo di iniziativa. La Kermesse sull'artigianato è stata presentata nella sala giunta dell'amministrazione comunale senigalliese ed è organizzata da Expo Marche in collaborazione con il Comune di Senigallia e le associazioni di categoria CNA e Confartigianato. Gioiello d'autore in mostra si riconferma come un appuntamento molto importante per le imprese artigiane e per l'attività turistica della città. È sicuramente una vetrina sempre più qualificata per la presenza di espositori provenienti da tutte le marche e da fuori regione. Da quest'anno si è qualificata ancora di più perché abbiamo voluto dare anche un indirizzo come amministrazione e un modo particolare come assessore alle attività economiche di valorizzazione delle nostre eccellenze, un termine che usiamo molto spesso però questa tredicesima mostra del mercato dell'artigianato si sposta verso i laboratori orafi e quindi abbiamo delle presenze sul territorio e anche a livello marchigiano di orafi importanti che sulla professionalità e artigianalità stanno lavorando ormai da tempo. La novità dell'edizione 2012 è la creazione di un itinerario d'artigianato che interessa oltre ai siti storici della città anche locali privati, luoghi di culto e il foie del teatro della Fenice. In queste location di prestigio verrà data rilevanza all'arte orafa e alla lavorazione di metalli attraverso una sezione dedicata al gioiello d'autore in mostra con una qualificata esposizione. Nello specifico la rassegna d'arte orafa presso i locali della Rocca Roveresca orizzonti dalla spiaggia di Velluto che in collaborazione con il Museo dell'Arte Moderna e della Fotografia di Senigallia vede per il primo anno il connubio e la valorizzazione di due realtà di prestigio della città, la fotografia e l'arte orafa. L'innovativa esposizione del gioiello contemporaneo di design punto e a capo presso Palazzo Baviera Galleria Rearte, l'esposizione di arte sacra presso la Chiesa della Croce. L'itinerario d'artigianato continua e ingloba anche lo spazio del foie del teatro.t che arricchirà la mostra con vetrine, laboratori, eventi giornalieri dell'esposizione Marche Eccellenza Artigiana a cura delle botteghe del Centro Storico e Faber Artista, una mostra d'arte contemporanea a cura di Federica Mariani e di Marche Centro d'Arte. La novità principale di questa edizione è proprio l'itinerario d'artigianato che invaderà la città per cinque giorni. Oltre i siti storici abbiamo inserito altri spazi anche non usuali per questa tipologia di eventi ma che sono dei bellissimi contenitori che il Comune ci ha messo a disposizione. Voglio ringraziare i partner che hanno collaborato in questa iniziativa e sono in primis il Comune di Senigallia che comunque è il promotore dell'evento insieme all'Expo Marche che ne cura l'organizzazione, la Regione Marche, la Provincia di Ancona, la Camera di Commercio di Ancona e la BCC di Fano che è il main sponsor dell'evento. Tra le ricerche delle eccellenze marchigiane per ceramica e terracotta di rilevo le presenze delle comune di Urbania, l'antica Casteldurante con le ceramiche artistiche storiche citate anche da Gabriele D'Annunzio, delle comune di Acquaviva Picena con le paierole manufatti della tradizione artigiana realizzate con paglia di frumento e vimini, delle comune di Mondavio con l'artigianato locale Momenti di Vita Medievali, del comune di Sarnano con l'artigianato locale e il gemellaggio con la trentunesima mostra mercato di antiquariato e artigianato. Di artigiani che presenteranno la stampa ruggine sutile, fischietti in terracotta, lavorazione artistica della ceramica, il mosaico, il ferro battuto, la corniceria, il restauro. Gradite e riconferme come la scuola dei mosaicisti che si cimenterà nell'opera che raffigura il castello di Scapezzano dopo i mosaici dedicati a Rotonda, Fora Nonario, Rocca Roveresca e Municipio di Senigallia. Confermata anche la storica presenza del Museo delle Erbe e Palustri di Bagnacavallo, Di Ripe con la tradizione dei vecchi mestieri e Torre del Greco con la lavorazione del corallo. Quest'anno c'è questo abbinamento con la città di Senigallia proprio intesa in modo stretto, cioè le caratteristiche e le bellezze della città di Senigallia si abbinano con le bellezze dell'artigianato artistico. E sicuramente questo qui è un momento importante perché fa vedere che la possibilità a tanti giovani di presentarsi. I numeri della mostra a mercato regionale dell'artigianato artistico Gioiello d'autori in mostra contano la presenza di 160 espositori di cui circa 100 provenienti dalla nostra regione. Si tratta di espressioni dell'artigianato artistico legati ai vecchi mestieri in cui viene esaltato l'aspetto legato alla tradizione e al territorio, alla produzione artigiana di qualità, distretti del cappello e della scarpa, dell'arte orafa, della carta e del tessile, all'artigianato contemporaneo legato a ricerca, innovazione e design. Il parterre della Rocca Roveresca ospiterà come ogni anno l'artigianato legato alla tradizione dei vecchi mestieri e alla lavorazione di diversi materiali, legno, terracotta, pelle, pizzo, carta. Qui il singolo artigiano esporrà e venderà la produzione della propria bottega e contemporaneamente darà dimostrazioni dal vivo della propria arte, dalla forgiatura del ferro all'intreccio delle erbe palustri alla lavorazione della ceramica. I locali della Rocca Roveresca ospiteranno le aziende titolari del prestigioso marchio Eccellenza Artigiana con le loro creazioni artistiche, arredo, tendaggi, complementi d'arredo, arte orafa. I locali ospiteranno anche il ritorno della rassegna d'arte orafa Orizzonti, capolavori d'arte orafa della spiaggia di Velluto, di oro e pietre preziosi, realizzati dai maestri orafi marchigiani. Verrà riproposta anche una sezione della mostra di Montappone e il Cappellaio Pazzo con alcuni esemplari unici. All'interno dei locali l'esposizione di complementi d'arredo, decorati e di artigiani senigalliesi. Palazzo Baviera e la Galleria Area Arte ospiteranno il progetto degli orafi senigallisi Graziano Barzetti e Alessandro Petrolati per scambio fra i diversi autori che gravitano attorno al gioiello di ricerca in tutte le sue eccezioni, arte, artigianato, design. Una collettiva internazionale arricchita dalle opere dell'artista orafo e scultore Edgardo Mannucci con un percorso dal passato ad oggi con una espressione più contemporanea. La sala Expo Ex ospiterà l'esposizione dei distretti di eccellenza artigiana e delle opere pittoriche dell'artista senigalliese Elisa Bellardinelli. Verrà ripetuta e ampliata l'esperienza dei laboratori didattici e creativi con la partecipazione di ragazzi e bambini per l'apprendimento di vari mestieri quali intarsio, decoupage e tessitura. I laboratori, gestiti da artigiani, proporranno diversi corsi come il laboratorio didattico creativo alla via maestra, il laboratorio dell'associazione concreta con corsi didattici dalla modellazione dell'argilla alla ceramica RACU alla fotografia. Ampia inoltre la parte dedicata agli eventi con cortei storici, sfilati, laboratori, workshop, degustazioni, lavorazioni del vivo, momenti culturali. Si consolida inoltre il rapporto con gli istituti scolastici. Saranno infatti presenti l'I.I.S. Bettino Padovano di Senigallia che presenterà l'appuntamento con la moda l'8 luglio al Foro Nonario e torneranno i lavori degli allievi del corso di ceramica e un laboratorio didattico creativo per sperimentare la malleabilità del materiale. Una manifestazione ricca di eventi sotto ogni punto di vista e per la quale è fondamentale il sossegno del Comune di Senigallia, della Regione Marche, della Provincia, della Camera di Commercio di Ancona e dell'Istituto di Credito BCC di Fano che in qualità di main sponsor supporta per il secondo anno consecutivo la mostra a mercato. La banca è vicina agli artigiani e lo è per il secondo anno consecutivo. A partire dall'anno scorso abbiamo deciso di sponsorizzare questa manifestazione perché crediamo come banca di credito cooperativo nel territorio e nelle sue espressioni. L'artigianato è una delle realtà portanti del tessuto locale ed è giusto riconoscere quello che è il ruolo che sta svolgendo. L'inaugurazione ufficiale è prevista il prossimo 4 luglio quando il complesso bandistico città di Senigallia accompagnerà il taglio del nastro del sindaco Mangialardi che interverrà assieme a numerose autorità di tutta la Regione Marche. Nella stessa giornata in programma un'esecuzione dal vivo del fisarmonicista Diego Trivellini è in serata corteo in costume medievale della festa castellana di Scapezzano mentre alla Chiesa della Croce concerto di apertura della stagione con Melisenda, Vicca l'organo e il soprano Samantha Pagnini. Dalle 5 luglio presso i giardini della Rocca Roveriesca tutti i giorni dalle ore 18 alle 24 artigianato artistico locale nazionale dimostrazioni dal vivo al pubblico degli artigiani laboratori didattici creativi vita, arti e mestieri medievali a cura della compagnia del file corranti e arciri storici città di Pesaro mentre in serata corteo del gruppo arciri balestriri storici e corte roveresca di Mondavio. Nei locali della Rocca Roveresca esposizione Marche Eccellenza Artigiana esposizione del cappello di Montappone mostra il cappellaio pazzo rassegna arte orafa orizzonti esposizione di complementi d'arredo e ricamati. Nella sala Expo Ex esposizione dei distretti di eccellenza artigiana esposizione pittoriche di Elisabelle Ardinelli creazioni dell'IS Bettino Padovano di Senigallia in Piazza Manni Qualitiamo festival delle qualità di valori per un nuovo modello di commercio a Palazzo Baviera e alla Galleria Arearte punto e a capo gioiello contemporaneo in mostra alla Chiesa della Croce esposizione orafa di arte sacra dei maestri orafi senigalliesi e dimostrazioni della lavorazione del corallo di Crescenzo Gaglione di Torre del Greco al foyer del teatro punto T esposizione Marche Eccellenza Artigiana cura delle botteghe del Centro Storico e Faber Artista mostra d'arte contemporanea l'arte della poesia e la poesia dell'arte a cura del Consiglio delle Donne di Senigallia libreria Iobuc e associazione nel verso giusto abiti da Favolai Madame Adore in collaborazione con Iobuc Marche Centro d'Arte progetto per l'arte contemporanea tra Cocalos Club e Galleria Marconi di Cupra Marittima Superfici a cura di Luisa Fuligni workshop di modellazione creativa dell'argilla Tableau Vivant Maria Antonietta cura di Oriente Espresse finisage degustazione di vini per godersi le opere d'arte e d'artigianato al Museo dell'Arte Moderna della Fotografia esposizione delle opere fotografiche del gruppo Misa e di Mario Giacomelli al Foro Nonario IIS in scena a cura degli insegnanti e eseguite dagli alunni del Bettino Padovano di Senigallia